Vorrei venire in bagno? Un secondo, finisco questa mano e poi lo lascio andare. Ma chi è che sta a pitturare? Buongiorno. Ma chi ha detto di pitturare, scusi? No, guardi, sono entrato, mi è venuta la curiosità di vedere come sarebbe stato Nero e quindi sto provando. Ma lei sta scherzando? No, perché? Sono una persona molto curiosa. Ho guardato dentro e... Nero è una persona normale, mi scusi, chi ha dato il permesso?